buonasera a tutti benvenuto ad un nuovo appuntamento con il tmv news accanto a me il direttore di tutto mercato web punto com nicolò ceccarini che saluto buonasera a voi buonasera a tutti ciao lorenzo facciamo un'analisi a mente fredda per quel che riguarda il nostro campionato con l'inter che potrebbe prendere il largo in questo torneo l'inter reduce dalla vittoria di misura contro la roma ma comunque ben netta perché riguarda la produzione offensiva che ha mostrato durante la partita contro i giallorossi un inter che se trova la continuità potrebbe davvero puntare con decisione a vincere questo scuola l'inter per me la squadra più forte del campionato alla migliore rosa in assoluto ai cosiddetti doppioni per ruolo cioè tutti i giocatori che comunque possono essere intercambiabili chiaro che non possono essere tutti allo stesso livello però comunque l'alternativa al titolare è sempre la differenza sempre minima e io credo che questa squadra abbia veramente dimostrato anche nell'ultima partita contro la roma la sua forza la sua volontà di riuscire a portarsi a casa un successo che non era per niente facile e comunque l'inter quest'anno le partite le risolve ha dimostrato di avere sicuramente superato quei limiti che invece aveva accusato all'inizio della scorsa stagione quando aveva perso troppe partite anche voglio dire con avversari abbordabili oggi l'unico vero incidente di percorso nel cammino possiamo definirlo quello col sassuolo la sconfitta interna col sassuolo poi questa squadra il bologna il pareggio si va beh però il bologna comunque tiago motta è già un qualcosa che ci può anche stare nella giornata storta un pareggio ecco magari perdere col sassuolo è stato sicuramente qualcosa di particolarmente negativo però non c'è nessuna squadra oggi che possa avere questo rendimento continuo e l'inter per me quest'anno deve sfruttare una grande occasione anche se ha tra virgolette l'impegno in champions league che sicuramente le toglierà delle energie e che può creare un piccolo o forse anche un bel vantaggio per esempio alla juventus che è lì ma che non ha le coppe e poi parleremo della juventus della sfida dei bianconeri con la frentina in programma domenica sera però volevo soffermarvi sul milan perché ieri parlavamo qui al tmv news con eugenio a scar in collegamento della possibilità dei rossoneri di avvalersi di nuovo in veste dirigenziale di ibraimovic secondo te è una decisione giusta opportuna e soprattutto potrebbe concretizzarsi a breve dipende anche da cosa si intende l'arrivo di ibraimovic se l'arrivo di ibraimovic deve essere un depotenziamento voglio dire di pioli è chiaro che questa cosa qui potrebbe anche per certi versi rappresentare non una difficoltà però una sorta di piccolo equivoco io non credo che l'obiettivo del rientro di ibraimovic sia quello ovviamente no di creare dei presupposti di instabilità ovviamente la presenza di ibra è una presenza fondamentale il giocatore che è stato determinante anche per riportare una mentalità vincente nel milan negli ultimi anni e comunque con lui il milan ha vinto lo scudetto pioli comunque ha sempre appoggiato anche parte del suo lavoro e delle responsabilità anche su ibraimovic proprio anche nell'aiuto della gestione del gruppo quindi io credo che una figura come ibra sia sicuramente molto importante però ibraimovic farà il dirigente e pioli continuerà a fare l'allenatore ecco non pensiamo che ibraimovic possa risolvere anche eventualmente delle problematiche che non sarebbe giusto oltretutto però ecco lui è una figura di riferimento che può fare da tre d'union tra la parte tecnica e la società è una parte della storia recente del milan quindi se dovesse tornare secondo me è una cosa positiva però ovviamente con ruoli ben definiti è un milan che comunque sta studiando concretamente gli obiettivi da inseguire per rinforzarsi per puntellare certi reparti perché sono certi difetti sono emersi chiaramente in questo io credo che il principale allora guarda fino a qualche giorno fa il principale obiettivo non c'entra avanti alternativo ovviamente a Giroud perché Giroud è un giocatore importantissimo per questa squadra però non ha un'alternativa perché Okafor è più attaccante esterno Jovic nonostante tutto purtroppo per Jovic sta dimostrando i limiti che abbiamo visto anche nell'anno a Firenze e quindi è chiaro che quando poi Giroud va in affanno o può non essere al 100% della condizione tutto il Milan se non c'è anche un grande leao ne risente quindi secondo me fino a qualche tempo fa fino a qualche giorno fa una settimana fa l'obiettivo principale era la punta centrale adesso secondo me il difensore centrale visti anche tutti gli infortuni che sono occorsi ai centrali penso a Calulu penso al fatto stesso di Pellegrino quindi comunque si hanno bisogno di andare a prendere un difensore centrale condivido esposo la linea del Milan di non andare a prendere uno svincolato perché oggi andare a prendere uno svincolato siamo a novembre si può aspettare un mese e mezzo visto che c'è di mezzo anche la sosta si va a prendere qualcosa di diverso però probabilmente adesso le priorità sono due la punta centrale e il difensore centrale credo sia più guarda difficile trovare un centrale di sicuro affidamento piuttosto che una punta perché magari il taremi della situazione il Milan lo potrebbe ancora andare a prendere sul difensore centrale vedo molte idee ma ancora non ho capito su chi andranno ad investire mentre come ha scritto anche Raimondo dei Magistris su TMV nei giorni scorsi hanno già bloccato Miranda l'esterno sinistro del Betis o lo prenderanno a 2-3 milioni a gennaio oppure lo prenderanno a scadenza di contratto alla fine della stagione salutiamo adesso in collegamento con noi Massimo Storgato ex calciatore di Juventus e Atalanta tra le altre ciao Massimo benvenuto ciao buongiorno a tutti parlando di Fiorentina Juventus in programma domenica sera ti chiedo subito quali sono le tue sensazioni per questa partita che assume un significato particolare ma le sensazioni sono di una partita molto calda gli auspici sono di una tifoseria viola in fermento la squadra che gioca bene una squadra che sta facendo degli ottimi risultati è chiaro che la Juve in questo momento è una squadra tosta sicuramente sarà una bella battaglia una partita da vedere da gustare è chiaro che deve essere solo l'insegna dello spettacolo e del bel calcio non certo di grandi tafferugli fuori tifo corretto e basta solo questo mi auguro Juve è diversa rispetto all'anno scorso più attenta più solida in fase difensiva ma secondo me la stessa Juve con un po più di voglia di far risultato e di arrivare all'obiettivo della Champions quindi credo che le problematiche siano più o meno le stesse però con un po più di di un atteggiamento più guerrigliero più battagliero per raggiungere ad ogni costo la meta per quanto riguarda la fase offensiva della Juventus Vlaovic non è ancora completamente sbocciato perché secondo te ma è chiaro che ha tante alternative a Lega quindi le fa varia in base alla condizione di forma è chiaro che Vlaovic aveva qualche problema fisico e è partito bene quindi ci sta un attaccante non è che tutte le domeniche può timbrare il cartellino quindi ci sono dei momenti alti e dei momenti bassi secondo me le prestazioni le ha fatte quest'anno Vlaovic un momento di flessione ci sta ma credo che sia sicuramente un attaccante al centro del progetto Per quanto riguarda invece gli attaccanti della Fiorentina che idea ti sei fatto su Beltran e Enzolà? Enzolà si conosceva è un giocatore diverso però sono due giocatori che stanno concretizzando la mole di gioco che sta facendo la Fiorentina a mio avviso la Fiorentina gioca molto bene è una squadra che palleggia bene, è aggressiva, che ha mentalità e quindi rispecchia un po' il suo tecnico e quindi è un po' di anni che sta martellando nelle prime 5, 6, 7 posizioni quindi credo che sia un giusto merito al lavoro dell'allenatore ma soprattutto anche della società che costruisce una squadra competitiva Dove può arrivare questa Fiorentina con un progetto tecnico diciamo duraturo? perché questo è il terzo anno di Vincenzo Italiano cioè se si dovesse fare un programma quinquennale c'è la possibilità di continuare a crescere perché la Fiorentina comunque con l'italiano è lì sempre a ridosso della zona Europa conferenze però l'obiettivo sarebbe quello magari di riuscire a scalare qualcosina per andare a lottare per la Champions è plausibile con una proprietà come quella di commisso? Sicuramente sì, credo che il progetto sia questo ma credo che anche i risultati lo stiano dicendo quindi forse quest'anno è un po' più concreto è un po' più continuativo degli anni passati quindi sicuramente può arrivare all'obiettivo di arrivare alla Champions è chiaro che deve essere molto continuo nei suoi risultati è chiaro che le coppe qualcosa ti portano via però penso che negli anni passati l'esperienza sia stata fatta e quindi nulla è scontato nelle varie coppe però ci può arrivare tranquillamente Nico González il vero trascinatore della Fiorentina? Ebbè è un bel talento è un giocatore che ti può spaccare le partite nell'uno contro uno è imprendibile quindi ha un bel piede è un giocatore molto molto bravo Secondo te sarà la stessa Juventus che affronterà la Fiorentina aspettando per poi colpire in contropiede la Fiorentina magari cambierà qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento tattico? Credo che sia quella la Juventus non può snaturare di colpo la squadra quindi sarà una buona difesa un buon atteggiamento difensivo e con ripartenze degli attaccanti che attaccano lo spazio penso che il canovaccio di Allegri della Juventus di quest'anno sia questo d'altronde i risultati si fanno è vero il bel gioco portato all'attacco ma la concretezza si fa prendendo meno gol Senti per parlare di un'altra delle tue ex squadre la Lazio a tuo parere si è definitivamente rilanciata battendo la Fiorentina? La Lazio gioca bene è una squadra che ormai è consolidata sta facendo un po' come la Fiorentina in questi ultimi anni quando dai una continuità tecnica e le società lavorano per questo alla lunga i risultati vengono è chiaro che molte società non hanno pazienza e tutti questi vari progetti decadono Ecco ma come lo valuti il lavoro di Sarri? Ti aspettavi qualcosa in più? è quello che naturalmente oggi può fare la Lazio oppure magari diciamo così anche questo rapporto che non è proprio idilliaco e si percepisce tra il presidente e l'allenatore magari qualcosina toglie anche alla squadra stessa? Ma penso che Sarri nello spogliatoio sia ben visto dei giocatori si vede che insomma la squadra è con lui è chiaro che la proprietà molte volte vorrebbe sempre vincere vorrebbe fare plus valenza e vorrebbe arrivare in Champions tutto questo purtroppo passa da una parte tecnica che non sempre può essere ben vista da entrambe le parti però penso che alla fine il risultato della Lazio sia arrivare in Champions questo penso che sia il programma di tutte le società delle 7-8 squadre che stanno lottando per questo e il futuro di Immobile come lo vedi? è chiaro che Immobile gli anni passano anche per lui non solo per gli altri quindi non è magari un po' più brillante non è più magari focoso fisicamente perché ci sta però è chiaro che è sempre un ottimo attaccante bisogna secondo me trovare un'alternativa valida per sostituirlo perché si aspettano tutti i gol di Immobile però insomma gli anni passano un'ultima considerazione anche sull'Atalanta altra tua ex squadra Atalanta che fa sul serio a giudicare dai risultati potrebbe essere comunque una squadra candidata a lottare per la Champions c'è uno Scamacca sempre più da nazionale che ne pensi? l'Atalanta del mio amico Gian Piero penso che sia un'ottima squadra e lui riesce a valorizzare tutti i giocatori Scamacca ha passato un momento non bellissimo di forma ma penso che anche che lui riesca a valorizzarlo e a dargli l'importanza che deve d'altronde Scamacca fa degli ottimi gol è un buon giocatore deve trovare solo la continuità e secondo me la sua scelta di andare a Bergamo penso che sia stata indovinata perché con Gasperini sicuramente troverà questo l'ultimissima di Nicola Ciaccarini tornando sempre sui centri avanti perché poi insomma noi parliamo molto anche per quanto riguarda la nazionale di giocatori che facciamo fatica a portare ad un certo livello pensiamo a Nesta Cannavaro per dire al prototipo dei difensori a Maldini pensiamo a tutti gli attaccanti che abbiamo avuto e anche grandi centrocampisti però oggi il livello qualitativo è un po' più basso allora siccome l'argomento sarebbe molto ampio e di lunghissima discussione però non è che forse si insegna troppo per esempio all'attaccante centrale di giocare per la squadra e per gli esterni di fare il movimento ad uscire dall'area di rigore e all'appoggio mentre quando giocavate voi pallone in avanti centri avanti doveva solo guardare la porta e forse è anche quello che è cambiato cioè che probabilmente per fare il calcio moderno alla fine si snatura un po' anche quelle che sono le caratteristiche dei ruoli dei giocatori o no? Sono pienamente d'accordo credo che separato anche questo del lavoro nel settore giovanili credo che gli allenamenti i giochi di posizione abbiano snaturato questa caratteristica una volta la palla si dava al centro avanti e dovevi girarti e calciare in porta o tentare il dribbling adesso si gioca possesso palla scarico la punta e deve ritornare indietro e quindi questa caratteristica non c'è più si allena si allena anche questo è chiaro che poi le scelte vanno fatte anche sui giocatori italiani perché ricordiamo che tutti gli attaccanti sono quasi tutti stranieri e quindi sia uno che l'altro problema fa sì che l'Italia si sia impoverita di centro avanti una volta eravamo a scuola dei difensori perché si giocava a uomo eravamo a arcini in belle difese e quindi i giocatori i difensori forti e mondiali sono venuti fuori è chiaro che si giocava palla lunga e pedalare è vero però i centro avanti facevano un sacco di gole quindi è un po' infatti adesso abbiamo tanti bei centrocampisti quindi è un po' l'evoluzione del calcio ma soprattutto anche degli allenamenti e delle scelte di società Massimo grazie mille buona giornata grazie a voi buona giornata grazie dopo questa chiacchierata con Massimo Storgato volevo soffermarmi anche sul Cagliari perché dopo la clamorosa vittoria sul Frosinone è arrivata un'altra vittoria in extremis in Coppa Italia contro l'Udinese e tutto questo fa pensare che ci sia una nuova fiducia una nuova carica col di la Padula col di la Padula certo che è rientrato dopo tanto tempo quindi ha maggior ragione ma guarda io Lorenzo penso una cosa che quando quest'anno si facevano le pagelle le valutazioni sul mercato del Cagliari io penso che il più grande acquisto era la scontata perché era scontata conferma di Claudio Ranieri l'autore il protagonista principale voglio dire della promozione del Cagliari perché nessuno è arrivato al campionato in corso pensava che si potesse realizzare invece poi nella finale contro il Bari è stato molto bravo Claudio Ranieri a riportare il Cagliari in Serie A però la sua conferma la sua esperienza la sua capacità di gestione dello spogliatoio anche con una squadra che chiaramente ha qualche limite tecnico perché è indiscutibile che al di là delle assenze insomma ora qualche giocatore è rientrato però non ha uno squadrone però lui è molto bravo in questo quindi la rimonta dal 72esimo contro il Frosinone che ha del clamoroso e anche la vittoria in Coppa Italia sta a testimoniare che uno la squadra è viva e nonostante insomma fosse una situazione perché poi voglio dire col Frosinone perdi 3-0 sei in quella condizione di classifica il rischio è di far precipitare tutto invece hanno trovato la forza un po' aiutati probabilmente anche da quel momento dalla leggerezza del Frosinone e secondo me questa partita può essere stata la partita della svolta per il campionato del Cagliari allora la Coppa Italia chiaramente è un altro tipo di manifestazione però intanto sono due su due e questo è importante la sconfitta dell'Udinese a tuo parere può essere non del tutto pesante visto che comunque Cioffi aveva deciso di puntare soprattutto sui giovani ma io credo che l'Udinese punti soprattutto sul campionato insomma è chiaro che può essere eliminati in Coppa Italia non fa mai piacere però Cioffi è tornato con un obiettivo ben preciso quello di permettere a questa squadra di cominciare a vincere perché comunque con Sottile che secondo me l'anno scorso invece ha fatto un ottimo lavoro si è bloccato qualcosa ora credo che anche certe partenze di questa squadra siano state un po' sottovalutate cioè la partenza di Beto o tutto sommato non è che sia stata un qualcosa di molto semplice non mi sembra che Luca è un bel giocatore a me piace e sono l'idea che a Udine possa fare sicuramente molto bene però ci sono delle certezze che questa squadra ha perso insomma poi il fatto di aver rinunciato pertanto anche a De Lofeo anche questa è un'altra assenza mica da poco e quindi questa squadra insomma non è così omogenea sono state però delle parole significative da parte del DS dell'Udinese a proposito di Samaric ha detto resterà Udine fino alla fine della stagione questo dà un po' più di serenità però se è meglio di me che è un giocatore che magari addirittura ha fatto quest'estate le visite mediche per l'Inter è andato lì a Milano e poi è tornato indietro qualcosa ti lascia sempre quindi magari la stagione di Samaric potrebbe non essere eccezionale però il fatto che ci sia è sempre meglio che non ci sia perché poi lo deve andare a sostituire comunque io ho molta fiducia nel lavoro di Cioffi che conosce l'ambiente non sarebbe stato se no possibile un suo ritorno se non ci fossero state le basi anche per un rapporto diciamo in generale anche con la dirigenza che è sicuramente buono e quindi ora è arrivato il primo pareggio contro il Monza vediamo come va insomma il campionato ora la partita di sabato e di domenica è assolutamente difficile non è che giocano proprio con l'ultima con l'ultima in classifica credo l'avversario sia al Milan quindi insomma una partita molto molto delicata avremo modo di riparlarne con il direttore di Tutto Mercato Web Nicolò Cercarini che ringrazio grazie a voi un saluto a tutti e grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito appuntamento a domani buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti